Amici telespettatori, amici di Facebook, amici tarantini con cittadini e amici della provincia tutti, c'è da fare un po' un bilancio di questo 2015 e rivolgere l'augurio per un 2016 che si auspica certamente migliore. Quanto al 2015 per Taranto è stato un anno orribilis, penso all'inquinamento, alle devastazioni che ha provocato e continua a provocare l'ILVA all'interno e all'esterno dello stabilimento, penso ai drammi sociali di Taranto, penso alla incapacità amministrativa della Giunta Stefano di dare le benché minime risposte alle istanze della collettività. Taranto oggi è una città paralizzata e sicuramente paralizzata anche per l'inerzia della classe politica in senso lato a 360 gradi, a partire dal sindaco, la sua inefficienza ed incapacità amministrativa. Il presidente della provincia Tamburrano dice di avere le mani legate, ci si domanda perché a questo punto non si dimetta da presidente della provincia, visto che le province non contano nulla. La regione Emiliano si è appena insediato, però Taranto continua a essere trattata da cenerentola rispetto alle altre realtà pugliesi. Che dire poi dei nostri parlamentari? Vorrei sapere qual è il risultato del loro impegno. Penso ai nove decreti salva-ILVA, penso all'entusiasmo strombazzato dall'onorevole Pelillo e penso invece ai risultati fallimentari dell'azione del governo Renzi per Taranto, soprattutto in materia ambientale. Questo l'onorevole Pelillo dovrebbe ben mettercelo in mente e in testa. Cosa dire? Arrenderci non sia mai. Dobbiamo reagire, dobbiamo partire dalle risorse del territorio, dobbiamo partire dall'agricoltura, dal mare, dal turismo, dalla cultura, dall'università. Abbiamo un patrimonio storico, culturale, artistico enorme. Penso al Martà, penso al Castello Aragonese. Da qui bisogna ripartire per una economia alternativa all'ILVA. Una economia delle scelte economiche che spazzino via l'ILVA. Che dire poi di certe realtà abbandonate a se stesse. Penso all'aeroporto Arlotta di Grottaglia e penso ai voli passeggeri, ai voli civili negati. Anche questo è il sintomo, è la prova provata del fallimento dell'attività della classe politica. Questo è il quadro. Cosa fare? Unirci, unire le forze sane del territorio, superare quelle invidie, quelle gelosie che sono purtroppo presenti, terribilmente presenti nell'associazionismo, nella cosiddetta società civile. Mettiamo da parte il voler essere prime donne a tutti i costi. Uniamoci, partoriamo una soluzione unitaria e facciamo sì che con questa soluzione unitaria si possa spazzar via una classe politica decotta e deleteria per il territorio. Questo 2015 lo ricordo per quanto attiene alla mia persona con affetto. Ci sono stati momenti di gioia, momenti di gioia personali certamente, ma questa è la mia sfera privata, ma anche momenti di gioia professionali. Sapete tutti le vicende giudiziarie che ho avuto con la mia ex emittente televisiva. Ci passo avanti. Io ho dimostrato, scusatemi la presunzione, di essere un vincente, di aver creato una realtà televisiva nuova, di aver creato un prodotto autofinanziato, una serie di trasmissioni autoprodotte, libera, senza padroni alle spalle, senza che qualcuno potesse dire domani ne parlerò al tuo editore. Questa è stata la vittoria più bella del 2015. E per il 2016 vi preannuncio qualcosa di grande. Ci sarà una programmazione serale, quotidiana. Faremo le cose in grande, sempre all'insegna della libertà, sempre con spazi autogestiti, sempre con una informazione libera e senza padroni. Questo è Polifemo l'occhio di Abate. Questo è il mio credo giornalistico. Un ultimo pensiero, che poi non è l'ultimo, ma è il primo, a chi soffre. A chi soffre per patologie, certamente fisiche, ma anche perché è colpito nell'animo dalla sofferenza del vivere quotidiano. Ecco, a questa gente io rivolgo il mio pensiero e dico che come giornalista, come realtà televisiva, saremo sempre vicini ai più deboli, saremo sempre dalla parte degli ultimi. Non dico saremo, ma siamo la cassa di risonanza per chi ha da dire qualcosa. anche quando gran parte dei media vuole minimizzare certi problemi perché non vuole rendersi ostile al potere, non vuole rendersi ostile al palazzo. Noi siamo di tutt'altra pasta. Io ho pagato personalmente per la mia libertà, per il mio volere di essere libero, per creare un'informazione libera e senza padroni. Credo di averlo dimostrato e di averlo conseguito. E consentitemelo, un grazie a voi per aver sempre creduto in me. Buon anno a tutti. Un felicissimo 2016.